Voglio dire, siccome avete davanti una persona che in questo momento soffre per la persona che sta con te Sì, voglio viverti, hai fatto presto, voglio viverti che neanche sapevi chi avevi davanti No, io gli ho detto a lui, io gli dicevo Ma adesso, ma all'epoca, non ora, adesso l'aiutate solo Perché bastava poco, eh L'aiutate solo se le dite con sinceri Vittorio, puoi salutarle in modo civile se ti va A me dispiace Mi potevi salutare anche all'ingresso, non è un galantuomo saluta all'ingresso E comunque, come dico a tutti, io ti voglio bene e te lo dico sinceramente Te lo giuro, lo sai per me quanto sei importante? Non ti attaccare, perché mi attacchi? Perché? Lo sai quanto sei importante, Vittorio? Non sono qui per farti pena, credimi Ti auguro tutto il meglio, non sto scherzando